Allora, Emi Schilla, il buon vecchio Emi Schilla, che fa parlare di sé ma soprattutto per motivi al di fuori della sua musica, perché comunque è un malandrino che a me pure è piaciuta, col tempo riascoltando, a livello stilistico magari un po' meno, mi aspettavo molto di più, ho detto la mia, c'è un podcast a sé. Però Emi Schilla ultimamente non è che, mi sembra una persona che sta abbastanza affocata, cioè mi sembra uno che abbia abbastanza difficoltà a mettersi in discussione, come tutte le persone che hanno diciamo un grande successo e poi fanno fatica a cambiare idea perché io sono questo, io porto questo, già nel momento in cui uno dice io sono questo, prendo una distanza. Per questo podcast comunque voglio innanzitutto ringraziare King Fidi, che è un grande conoscitore del monologato podcast, si definisce lui fan, io non mi piace la parola fan, però lui è uno di quelli che proprio segue questa realtà dai primi podcast, e ascolta tutto, ha un grande piacere nell'ascoltare e quindi io lo ringrazio perché ogni tanto mi scrive e mi dà dei suggerimenti diciamo su delle tematiche e mi ha suggerito lui questa tematica e quindi lo voglio ringraziare, innanzitutto per il supporto e poi per il suggerimento. E comunque appunto ci tenevo ad approfittare diciamo di questo delirio di Emi Schilla per parlare di questo fatto della galanteria. Ecco, Emi Schilla ogni volta finisce sotto accusa dalle nazi femministe, così io le definirei, per le sue uscite particolarmente maschiliste, cioè lui diciamo che ci tiene a ribadire la sua actitude, è un po' ignorante, è un po' di strada, un po' io così, io sono l'uomo e io faccio. Io lo capisco, sono cresciuto in Abruzzo dove, no, Abruzzo è detto forte e gentile, figuriamoci se qui se stai con una ragazza permetti alla ragazza di pagare, cioè se fosse per noi abruzzesi per come è la cultura generale, poi gli abruzzesi online possono anche massacrarmi di parole per queste cose che sto per dire, ma è la verità perché facciamo tutti liberali, ma qua la mentalità non dei giovanissimi ma comunque dei medi o adulti è quella comunque che vorrebbero tutti la donna dentro casa, è l'uomo che fa il suo. Quindi ho questa mentalità di mischilla che capisco, non approvo appieno, non approvo molto, però la capisco, però io se devo essere sincero, allora partendo dal presupposto che quando era la mia prima ragazza andammo al cinema, io tirai fuori la 10 euro, lei tirò fuori la 10, fu io a rimetterla in tasca. Fu io, cioè proprio, me ne vantai anche, perché io sono sempre stato contro questo fatto che devono essere sempre i maschi a pagare, da sempre sono stato contro sta cosa, anche perché sono un poveraccio morto di fame, quindi dipende, quindi ecco prima cosa, ovviamente era un comportamento sbagliato, ad oggi se esco con una ragazza la prima cosa l'offro io per una questione di società e galanteria, però a fatti concreti dipende cosa, se si parla di un biglietto del cinema ovviamente che figura ci avrò fatti in quel momento, cioè proprio patetico, però a fatti concreti, se parliamo di cena, allora se io davanti una persona che vedo che vuole a tutti i costi pagare, diciamo facciamo a metà, è chiaro che se la ragazza dice no pago io, tutte e due, fermati, cioè uguaglianza vuol dire ognuno il suo, io sono per la libertà, ognuno paga il suo, poi se lei è ricca, io no, e lei dice non ti preoccupa, pago io, che sto carica di soldi, io mi lascio offrire, se sono in un momento in cui dei soldi ce li ho, allora sono io che faccio, no no, aspetta, dammi la possibilità di offrirti almeno stavolta, poi dalla prossima volta facciamo a metà, senza problemi, quindi dipende anche dalla situazione economica che hanno le due parti, ecco questa è una prima cosa importante secondo me, poi ecco dipende da varie circostanze, c'è la ragazza magari che la vedi che vuole farsi offrire, che ti guarda come addivare, che se non me l'offre la cena per me non sei un uomo, cioè cose che si percepiscono, ogni ragazza è fatta a modo suo, sono ragazze che magari la prima sera, la prima cena vogliono che tu glielo offri, e per una questione anche di rispetto, il gentil sesso, no, e ci sta, e io sono il primo che se avessi i soldi per potermi permettere di offrire la cena ogni volta, ogni volta che uscirei con una ragazza offrirei io, assolutamente, ma ogni volta che potrei, però a fatti concreti quando invece si ha una relazione magari stabile, se ogni volta che uno che va offre diventa un ricatto emotivo, quella ragazza l'annulli, tu non gli dai la possibilità di avere un'identità, non gli dai la possibilità di essere se stessa, sei solo tu che paghi, e lei che deve stare appresso, e poi magari al momento dello scazzo, eh ma io ti pago tutto, ti ho sempre offerto tutto, non ti ho fatto manca niente, no, a me non mi piace questa cosa, a me proprio non piace sta mentalità, perché poi c'è il disturbo affettivo, che mi scrive diciamo che secondo me è uno che abbastanza ce lo vive, comunque quelli della sua generazione lo vivono molto, soprattutto se poi ecco passa il tempo, sei famoso, quindi non è che ti puoi mettere troppo in discussione, c'è la tua mentalità, eccetera, però a fatti concreti, e poi c'è soldi, mi schiai là, c'è già avuto i soldi, voglio vedere se era ancora Emiglietto Lozzarro, se aveva la possibilità di offrire, di offrire, 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 insomma, no? Eh no, questo è anche da vedere, dipende da varie probabilità, se un uomo deve lavorare in fabbrica per 1.500 euro al mese, per poi pagare ogni sera la cena, la ragazza spendendoci tutto lo stipendio, solo per galanteria, oddio è da vedere, allora uno dice evitiamo di andare a cena ogni sera, cioè c'è sempre una sottile linea di confine tra la galanteria, e quello che poi è il ricatto emotivo, o anche l'essere sfruttati o lo sfruttare, sono tante le cose, io credo che bisogna comunicare semplicemente, cioè cercare di capire di primo acchitto e poi col tempo comunicare e ognuno avere i suoi spazi, cioè io non sono uno che se si dovesse sposare andrebbe a fare la comunione dei beni, uno perché c'ho le esperienze familiari interne che ti fa capire come funziona, ci sono tante cose che magari non vanno quando si sta sempre a fare tutto insieme, il noi, noi, noi siamo io e tu, e insieme facciamo il noi, ma non è sempre noi, non è tutto ciò che è mio, è tuo e viceversa, bisogna avere rispetto degli spazi, quindi di conseguenza io se vado a cena, mi siedo e poi si valuta se devo pagare per entrambi o se devo pagare solo per me, questo è il concetto, perché uno deve anche vedere l'altra parte, magari la ragazza dice io non voglio che tu me lo paghi, e no, no, te lo pago io, io non voglio che tu me lo paghi, e là che fai? Ci finisci a litigare, è chiaro che poi il popore mischilla finisce nel ciclone a causa anche di ste cazzo di nazi femministe che sono esagerate, cioè se tu dici io, io però lo capisco, la cena la pago io, ok, tua mentalità, una ragazza che sta con mischilla sa che mischilla ti pagherà la cena, punto, è capito? Non è che possiamo sollevare un polverone e mischilla sei un maschilista, e mischilla sei un po' la vecchia maniera, hai fatto pure la canzone, e ci sta, non è che per forza moderno è giusto, cioè una ragazza che vuole avere la sua indipendenza mentale, affettiva ed economica, non si fidanzia con mischilla, questo è, che poi questo è relativo, perché le coppie si massacrano sempre l'uno con l'altra, si dicono sempre le parole, non si vanno mai bene razionalmente, ma poi stanno sempre insieme, magari per motivi di chimica, quindi ecco, anzi, spesso e volentieri la psicologia ci insegna che si sta insieme a una persona per colmare una mancanza, quindi ti fai a prendere proprio quello lì che è il contrario, tu vuoi essere libera, prendi uno che ti schiavizza perché puoi lottare per la libertà, perché comunque la vita è questo, è anche un cercare di non annoiarsi, e con queste battaglie noi non ci annoiamo, ecco, l'amore conta, conosci un altro modo per eludere la morte, diceva il buon Liga, questo è quanto, quindi raga, io dico, siate voi stessi, non abbiate paura di comunicare, e se quando ti siedi al tavolo, se tu la pensi in un modo, ti comporti in un altro, per far colpo su una ragazza, non lo so se è la ragazza giusta per te, cerchiamo di capire, chi siamo, cosa vogliamo, perché è una ragazza che d'altro canto ti lascia, perché non gli paghi il conto, mi domando che ragazza sia, cioè, sono troppe le cose, comunque, insomma raga, diamoci una regolata, cerchiamo di capire, cerchiamo di essere noi stessi, perché altrimenti siamo finiti, perché le ragazze, ai ragazzi, se uno è omosessuale o se una donna, scusate se sono magari maschilista, che parlo in prima persona e basta, però i partner vanno e vengono, noi stessi invece ci siamo sempre e quindi dobbiamo avere rispetto di noi e darci il tempo e modo di capirci, soprattutto nella relazione.